Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e questa è Zur presente il settimanale di Casa Bungie, rubrica suddivisa in due parti dove nella prima vi parlo delle ultime novità di Destiny e nella seconda vi mostro l'inventario dell'agente dei nuovi venditori di esotici. Ricordo che Zur è disponibile ogni settimana a partire dalle 10 del venerdì mattina sino alle 10 della domenica mattina. Ora, come ben sapete, le notizie su Destiny scarseggiano un po'. Bungie è silente, si può dire, da un bel po'. Di conseguenza anche i miei video su Destiny scarseggiano, ma questo penso l'abbiate un po' capito se mi conoscete bene. Quando ci sono novità sono sempre in prima linea per cercare di mostrarle, quando non ce ne sono resto chiaramente in silenzio. Silenzio che dovrebbe terminare l'8 febbraio dalle 19, perché Bungie ha intenzione di fare uno stream dove mostrerà le novità dell'aggiornamento rapido 2.5.0.2 che introdurrà una serie di bilanciamenti alle armi, bilanciamenti soprattutto in chiave PvP, come già anticipato nei giorni scorsi. Sarà data dunque una dimostrazione di tutto questo in diretta, io cercherò di fare un video ricapitolativo nel caso in cui vi perdeste l'evento. Comunque, quando arriverà veramente la patch? Il 14 febbraio, presumibilmente di mattina, quindi immagino al solito orario del reset settimanale. In questo aggiornamento, pare, non ci saranno comunque nuove missioni, ma insomma si occuperà principalmente del bilanciamento delle armi. E questo è quanto per le news ufficiali. Per quelle non ufficiali, invece, sembra che Megablocks, che produce costruzioni stile Lego, abbia inavvertitamente lasciato trappelare alcuni dettagli riguardo la trama futura di Destiny. Destiny 2, forse chi lo sa, in pratica tema Cabal, che sembra sarà davvero il centro del prossimo futuro narrativo del titolo di Bungie. Interessante come in uno dei due set Megablocks, leggendo le descrizioni, appaia Lord Shaxx con tanto di spada, dove viene anche citato uno scontro all'interno della torre contro la furia della Guardia Rossa dei Cabal. Insomma, morale della favola, probabilmente ciò che avremo in futuro su Destiny sarà incentrato sui Cabal, su posizioni, naturalmente. Tornando un attimo alle news ufficiali, Dij, alla fine del settimanale, dice, prima di darvi nuovi nemici a cui sparare, dobbiamo fare quattro chiacchiere con i nostri armaioli. Nuovi nemici a cui sparare. Oppure, lo sappiamo che state attendendo nuove esperienze da provare, noi non vediamo l'ora di potervi mostrare ciò a cui stiamo lavorando dietro le quinte. Insomma, non penso che tali notizie tarderanno ad arrivare in un modo o nell'altro. Bene, è tutto per le news, ora passiamo all'analisi di Zur. Casco di Saint-14 per titani difensori permette a Guardia dell'Alba, ovvero la Super, di accecare i nemici che sono al suo interno. Aumenta l'intelletto a forza, le granate forniscono superenergia bonus o ammazzare i mossi dell'oscurità, cioè quelli controllati dal computer, con armi pesanti, fornisce superenergia bonus. Infine, energia bonus guadagnata per il corpo a corpo quando si raccoglie una sfera di luce. È un buon casco sicuramente per i difensori, è uno dei miei preferiti, anche se ammetto che non è più quel must di un tempo, mi ricordo crota a voi. Ma accecare i nemici è sempre positivo, ci salva la pelle in determinate situazioni critiche. Buonissimo, ma non più top. Macchina da ballo radiante, armatura a gamba per qualsiasi tipo di cacciatore dove ci si muove più velocemente quando si mira con la propria arma. Aumenta intelletto o disciplina, aumenta la quantità di munizioni per i fucili a pompa o per le mitragliatrici, aumenta agilità per 5 secondi dopo una doppia uccisione ad arco, oppure dopo una doppia solare, oppure dopo una doppia da vuoto. È un pezzo interessante per chi ama molto lo strafing, cioè il muoversi lateralmente quando si mira, così diventando un attimo più difficili da colpire. Personalmente non ho mai usato questo pezzo, quindi almeno a questo giro evito di dare un parere, ma appunto dipende molto dal nostro stile di gioco. Se non ci spostiamo molto quando miriamo, questo oggetto potrebbe essere poco utile. Teschio del terribile Amkara, casco per stregoni camminatori del vuoto dove si diventa più resistenti quando si spara la propria super e il prosciugamento di energia è migliorato. Aumenta disciplina o forza uccidere i mostri dell'oscurità con corpo a corpo o con armi speciali, fornisce super energia bonus. Ed energia bonus corpo a corpo quando si raccolgono sfere di luce. Beh, onestamente c'è di meglio, credo manette del nulla, mente d'ossidiana, questo non è un elmo comunque terribile. Ed è il tipo bene, ma non benissimo, non so se mi spiego. Arma della settimana, Vituperio, fucile a pompa con danni solari che ha la modalità automatica, l'ultimo colpo nel caricatore infligge danni aggiuntivi e soprattutto rigenera i proiettili nel tempo. Può essere estratta velocemente o si può migliorare la stabilità o la sua agittata e precisione al costo di maneggevolezza e capacità di munizioni. Penso sia un pregevolissimo fucile a pompa che in realtà si presta bene sia per attività PUE grazie alla rigenerazione dei proiettili e al suo danno comunque per niente malvagio, sia in PvP aumentando un po' la gittata in questo caso e se qualcuno è molto molto vicino la modalità automatica ci viene in soccorso. Se non disponete di quest'arma penso di poterla consigliare anche se non si tratta di un top assoluto ma chissà, magari dalla 2.5.0.2 le cose potrebbero cambiare. In gramma storico della settimana abbiamo un elmo esotico ma ricordo essere massimo anno 1. E questo è quanto signori ora passiamo al solito, al momento dei saluti ricordandovi che pesco a caso. Saluto la mela 85, Skillerman 286 del clan Cala Mignotte, Pensive Coyote 62 del clan Reverse Legion, Gepinotto e Iguaglion Rorion, Giacomo Jamer, è meglio il falconunare Giacomo, senti a me, Mattia No, cioè nel senso si chiama non Mattia No che non lo saluto, cioè Mattia Spazio No, ed infine il clan Quelli Che Stai Maale. Bene, è tutto dunque per questa settimana, curioso di conoscere cosa cambierà nella patch 2.5.0.2, io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, Love and Peace Guardiani. That came from the moon.